Nel cuore di Trapani, tra le antiche strade intrise di storia, sorge il Museo Conte Agostino Pepoli, uno scrigno prezioso che custodisce l'immenso patrimonio storico, artistico, ma anche archeologico della città. Guidato dalla direttrice Anna Maria Parrinello, si distingue non solo per le sue straordinarie collezioni, ma anche per le molteplici attività che offre all'intera comunità trapanese. Una delle iniziative più significative è l'opportunità offerta agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado di visitare i laboratori di restauro all'interno del museo. Qui, sotto la guida esperta della restauratrice, concita Vadalà, originaria di Firenze, ma da mesi impegnata nel recupero di abiti, copricapi e accessori di alcune figure facenti parte della natività di Maria, gli studenti possono comprendere il valore che si cela dietro il delicato lavoro necessario per preservare le opere d'arte esposte. Queste sculture e linee fanno parte di una collezione di 42 opere, tutte abilmente scolpite e vestite con abiti molto ricchi. Questo denota l'appartenenza ad una famiglia nobile. Sono opere polimateriche, quindi di un grande interesse e coinvolgimento, diciamo, affettivo. Intanto anche perché si tratta di piccoli abiti. Spesso le opere sono anche vestite fino all'ultimo strato interno, quindi magari possono avere dei gonnellini in cotone che proteggono in questo caso la parte linea che è un po' diciamo abbozzata nella parte nascosta, invece molto raffinata nella parte a vista. E sopra sono vestiti con taffetta di seta e con tessuti molto pregiati in lamina d'argento dorato, per precisione. La difficoltà è proprio dovuta a questo come lo stato di conservazione, perché questa lamina d'argento ha spezzato le fibre di seta e quindi è necessario spesso ripristinare la stabilità tessile o attraverso una leggera tessitura o fermatura col punto posato con un filato d'organzino, come sto eseguendo nella scultura che ho qui sul tavolo, oppure utilizzando un tessuto resinato, come nel manto giallo che appartiene alla stessa opera, che va a ricreare un consolidamento generale dell'intero tessile che non può essere attraversato da un ago. La classe ha ascoltato con molta attenzione, c'è naturalmente un tempo di attenzione, quindi la visita si svolge dalla mezz'ora a un'ora a seconda delle domande. Io cerco di illustrare la teoria del restauro, che naturalmente viene applicata anche al restauro tessile e naturalmente parlo nello specifico di queste opere, che hanno tanti aspetti belli, divertenti, anche per certi versi, anche perché sono delle piccole bamboline. Ritengo che possa essere un primo approccio per poi far nascere una passione. Il museo si distingue anche per i suoi cicli di incontri sulla storia dell'arte siciliana, come quello tenuto ieri dalla dottoressa Daniela Scandariato, dedicato ai mobili intagliati di gusto rococone e il trapanese. Occasioni che non solo arricchiscono la conoscenza, ma che contribuiscono anche a promuovere la consapevolezza e l'apprezzamento delle opere d'arte della regione, illuminando aspetti trascurati della storia artistica locale, molteplici attività proposte e visite guidate per i visitatori che si inseriscono all'interno della mostra Wolfgang Uber, un argentiere tedesco a Trapani, inaugurata lo scorso novembre e aperta al pubblico fino al 7 aprile 2024, prima domenica del mese con possibilità di ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici. Un luogo dunque quello del Museo Pepoli, che non è semplicemente un punto di conservazione, ma un faro di cultura e bellezza che illumina l'anima della comunità trapanese, custode di un tesoro che continua a ispirare e incantare generazioni presenti e future.